La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera se stesso, senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento. La crisi dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni. E la pigrizia nel cercare soluzioni e riuscita. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine. Una lenta agonia. Senza crisi non ce ne merito. Parlare di crisi significa incrementarla. E tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa. Che è la tragedia. Di non voler lottare per superarla. Invece, lavoriamo da un'unica crisi pericolosa.